di schiacciare il voto così questi quadretti che scherz che scherz che ah si vengono le chiavi a fondamenti ci guarda un piano fuori adesso perché guardate che meraviglia questa partezza guardate che cosa siete guardate che guardate la signora che fa il mare che va e guardate il comito lì guardate che meraviglia guardate che meraviglia guardate che non posso guardate rilasci 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 tutta posta tutta posta tutta posta tutta posta se non mi ha capito si capisce vado a scattare vado a scattare guardate la madame della prima classe ed eccolo allora allora vi legge la battuta e non c'è stato verso il tenere ora non c'è stato verso il tenere oltre non si poteva ho calato la testa come scena di descartare no non puoi fare adesso adesso chi va benissimo la questione va allo scatteur guardate che meraviglia guardate guardate ha visto nel cielo ecco adesso ha capito Iceberg 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 ha visto la scelta la panela bravo bravo è a fortuna scelta e guardate qua come se sta figurando attrazione guardate l'anemia tutti specialati e attrazione arriva l'esperto impatto e purtroppo inevitabile e attrazione ecco sta per arrivare a oh oh la madame con l'impresione l'altro mi tirai l'ai oh guarda che sia la foto l'altra una gran confusione la madame che non sa che cosa fare si tiene le carri signore io qui voglio la massima attenzione guardate che cos'è questa scena guardate ma guardate 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 è la scena l'anemia ma guardate la scena la mia casa è di chi era giù di giù guardate qui per scendere la sua capuzione giù giù guardate guarda se lo sta ordinare il Santo Signore guardate che meraviglia ah lasciate un bar la tenerezza ciao ciao guardate che cosa è questa conclusione guardate che cosa è senza che cosa è un obiettivo di fredd la laticza come guardate che guardate che guardate 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 la madame no che si prendersela guardate che coppia questa coppia eh ecco giù nessuno la madame si sa ecco la madame eh la madame eh sì bene eh bravi 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 guardate 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 faccia questo sfocamento prende guardate le bolle insegna non uscite un po' dalla bocca guardate guardate ho cambiato l'obiettivo guardate 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 se non sembra nel bravi 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 guardate qui, guardate qui, qui è bravissimo, qui non c'è niente da fare, qui è la trama, guardate ancora nella sua capacità, che lascia la mente e dite la madre, la madre simbolesce la carriera, la carriera, la carriera. E' chiaro che si va a Parì, perché io ho pensato una cosa, mi è venuto a decidere, è presente il nostro zio Oscar, noi abbiamo uno zio particolare, è un ex ufficiale, è un pezzo d'uomo, si è fatto fare tutte delle statue, con questa spada muscolosa, sai che cosa dobbiamo fare? La fanno delle statuette dello zio Oscar, e darle a come il monsieur l'officiale, il monsieur l'adegato, al miglior produttore, con la carriera, la carriera dove si dà un premio, sì, è un prezzo Oscar. No, sinceramente, voi pensate che nel futuro ci può essere una follia di società che se ne va in giro su delle automobili, parlando nelle scatole con i diodoranti e la bo, le lumine del Natale, gli occhialini quando va al cinema, che già è triste con gli occhialini, e poi non vale neanche vedere un film, vai in un posto dove danno delle peste di ferro, di coloro, per cose che hanno fatto dei film. Andiamo su, tutti insieme, un, due, tre, non se ne va mai! Buon rinno, buon rinno, buon rinno, buon rinno! Bene, grazie a tutti, adesso l'ultima cosa che vi chiedo è di alzarvi e di seguirmi per un'ultima grande emozione.